La correzione di Dio ci rende umili. Laddove a noi serve essere umili. Possiamo rispondere alla correzione in tre modi diversi. Uno, ribelarci a Lui. Due, razionalizzare e giustificarci. Tre, accettare la correzione e rimetterci in carreggiata. Ma un cambiamento reale e duraturo può iniziare solo se prima accetti questa realtà. Dio ti ama, senza condizioni e per quello che sei. Senza questa premessa continuerai a cercare di cambiare te stesso con le tue sole forze, nel vano tentativo di meritarti il suo amore e la sua approvazione. In verità, queste cose tu già le hai, solo che non lo sai. Molti pensano che accettare se stessi significhi giustificare tutto ciò che in noi non va. Non è così. Non puoi ricevere la correzione di Dio nel modo giusto finché non raggiungi una chiara consapevolezza di quanto Egli ti ami. Se manca questa consapevolezza, la correzione ti sembrerà un rifiuto e la disapprovazione del tuo comportamento ti sembrerà la disapprovazione di te come persona. Per crescere spiritualmente, devi credere che Dio abbia preso un impegno con te, specialmente quando assume un ruolo correttivo e ti guida in direzioni che non comprendi. In questi momenti devi avere una fiducia incrollabile nel suo amore per te. L'Apostolo Paolo era convinto che nulla avrebbe potuto separarlo dall'amore di Dio. Vedi Romani 8 verso 39. Nel capitolo 3 dell'Apocalisse Dio si rivolge ad ognuno di noi quando dice tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Una delle evidenze più nette dell'amore e dell'approvazione di Dio è proprio la sua correzione. Quindi dovresti preoccuparti nel caso non ci fosse. Se stai attraversando un periodo di correzione da parte sua rincuorati e gioisci. Egli ha in serbo per te qualcosa di bello. Grazie a tutti.